Io sono il pane, vivo discesa dal cielo, dice il Signore. Chi mangia di questo pane, vivo discesa dal cielo, dice il Signore. Il Signore sia con voi, dal Vangelo secondo mano. Il primo giorno delle azze, quando simulava la Pasqua, i discepoli dissero a Gesù, dove voi che andiamo a preparare? Perché tu possa mangiare la Pasqua? Allora mandò due dei suoi discepoli dicendolo, andate in città e viverai contro un uomo con una broca d'acqua seguito.